E' una bella soddisfazione come ho avuto già modo di dire in altre occasioni, sentiamo tutto il peso della responsabilità di questo ruolo ma soprattutto del risultato che noi abbiamo ottenuto sia come Fratelli d'Italia ma anche come tutto il centro-destro dove gli abruzzesi ci hanno premiato e questo dimostra anche la grande attesa che c'è nei confronti di quello che farà il presidente Marsilio. Oggi si avvia questa undicesima legislatura, è un momento importante perché finalmente possiamo occuparci di quelli che sono i problemi della nostra terra e degli abruzzesi. Abbiamo composto un'aggiunta importante fatta di tutte le persone competenti e qualificate e allora va il mio augurio di buon lavoro. Edel, in effetti Fratelli d'Italia esprime il presidente della Giunta e l'assessore Guido Liris. Avete poi, come abbiamo tante volte detto, il sindaco del capoluogo di Regione Pierluigi Biondi che oltretutto adesso si appresta a completare il suo rimpasto di Giunta alla luce dei nuovi equilibri del 10 febbraio. Sì, abbiamo il presidente della Regione, il sindaco del capoluogo ma abbiamo anche una squadra di consiglieri importante, voglio ricordare Guerino Testa, voglio ricordare l'assessore Guido Quintino Liris ma anche Mario Quaglieri che entrerà da qui a qualche giorno appena ci sarà la surroga. Con la surroga di Liris quindi? Sì, quindi una classe dirigente che sta crescendo in questi ultimi anni, che si sta radicando sempre più sul territorio a dimostrazione che quella lucida follia, mi piace così definirla, di 5 anni fa aveva visto lungo e comunque sta portando tutta una serie di risultati. Per quanto riguarda il rimpasto di Giunta, sì ci sarà a breve, ovviamente il sindaco Biondi ha visto allontanarsi alcuni assessori che oggi siedono all'interno del Consiglio regionale che vorrà dire che l'Aquila sarà anche rappresentata non soltanto in Consiglio Comunale ma avrà degli strumenti proprio grazie a questi consiglieri eletti ex assessori dell'Aggiunta Biondi all'interno del Consiglio regionale che potranno dare impulsi a quelle che sono non soltanto le problematiche ma anche quelle che sono le urgenze di questo territorio e tra le priorità di questo territorio il presidente Marsil ha voluto proprio indicare quella della ricostruzione. Quali sono le richieste di Fratelli d'Italia per la futura Giunta del Comune dell'Aquila? No, Fratelli d'Italia ha già espresso la propria posizione ed è molto chiaro, noi non siamo per l'azzeramento della Giunta noi abbiamo già all'interno della Giunta due persone qualificate, mi riferisco ovviamente all'assessore Piccinini e Mannetti abbiamo un gruppo consigliare fatto di persone esperte e di competenza che sapranno dare il giusto contributo a questo continuo del mandato elettorale di Pierluigi Biondi. Grazie mille allora al coordinatore regionale di Fratelli d'Italia e del SIGIS Mondi. Grazie a te. Grazie, buon lavoro. Ciao.